Ma perché ormai hai presentito dire che io sono quella snob? Addirittura? Ma boh, cavolo, c'è così tanta, ogni tanto mi dico cavolo, c'è così tanto poco interesse nelle cose interessanti e profonde che mi fanno passare per intellettuale. Cioè incredibile, incredibile. Quindi non sono snob, cioè mi piacerebbe che le persone a volte andassero oltre la propria percezione perché le persone le conosci quando hai un contatto con l'altro. Invece c'è sempre questo, ho sentito dire che, vaffanculo, no. Verifica piuttosto. Verifica.